E non sai quando entrare, perché insomma Francesco del Gregorio non riesci a fare così, a fermarlo, no? Comunque grazie per i messaggi, qualcuno ha definito una coccola della mattina, quindi grazie a chi ci ha scritto al 3317853555 e grazie anche invece a chi c'è qui di fianco a me, che è solo lei, l'inimitabile B.A.Z. È vero, è vero, è vero, è vero. Accende tutto qua. Non ho ancora capito cosa ci rendono, ma ci rendono. Tutti insieme. Canta con Beatrice, risplende il suo jingle. Le chissà anche che canzone la tagliamo, basta, ho deciso, qua si finisce. Bravo, posso dire che l'ultima parte non mi fa impazzire, perché c'è questa esplosione. Mi piace questo Fabio ascolta e tempo da imparare. Ricordiamo sempre che perché sentiamo questo strazio ogni volta, perché l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Allora facciamo vedere appunto i limiti, nel senso, canta e intonato, intonato e intonato. Intonato e intonato, il testo non ha minimamente un senso e soprattutto la cosa divertente è il fatto che nel ritornello dica di cantare il tuo jingle, cioè se stesso. Esatto. Cioè come se faccio una canzone, dico, canta questa canzone. Forse quello non è l'intelligenza artificiale, ma è consapevolezza artificiale, forse può essere quello. Bene, buongiorno Berzy. Buongiorno a tutti. Allora, dopo De Gregori, ora vediamo. Nel senso che arriviamo da Francesco De Gregori. Dai. Per andare dove? Per andare da 13 Pietro e Irbis. Irbis e 13 Pietro. Esatto, con Serve Amore. Canzone uscita l'1 novembre. Proprio nuova, nuova, nuova. Mi verrebbe da dire però che il 13 novembre, come si chiama lì, 13 Pietro, non è così lontano di Gregori. Eh no, perché non si direbbe mai, perché non si somigliano per niente, ma è il figlio di Gianni Morandi. Ah, vedi. 27enne, figlio di Gianni Morandi. Ok, 13 Pietro. Fa musica da tanto. Fa musica da tanto. E dobbiamo per forza sentirlo anche stamattina. No, non lo so, no. Allora, devo dire, non so cosa stiamo per ascoltare. Ah, non l'hai mai ascoltato? No, mi spiace, non so che ti delude questa cosa. Eh, pensavo figlio di Gianni Morandi, magari anche solo per sentire se imita il padre, se si misce. No, no. L'unica figlia che ascolta è quella di Zucchero. Di Zucchero? A me mi piace, sì, la fornaciare mi piace tanto. Non la conosco. Eh, brava, brava, mi piace tanto lei, sì, sì, sì. Però no, altri non ne ho ascoltati. Vabbè, l'Angelina Mango. Non l'ascolto. Ah, non l'ascolto? È impossibile non ascoltarla, però nel senso, capito? No, no, no. Te la mettono ovunque. Volontariamente non sei mai andato... No, 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 no. Comunque, quindi, 13 Pietro e Irbis con Servi Amore. Esatto. Allora, ce l'ascoltiamo e poi mi dici un po' perché dovrei ascoltare magari anche 13 Pietro, non solo in questa circostanza. Ok, va bene, va bene. E allora, 13 Pietro e Irbis con Servi Amore. 13 Pietro e Irbis con Servi Amore. Grazie a Bea Zila potete ascoltare quest'oggi qui su Cristal Radio Good Morning Milano. Fabio non è contento di averlo ascoltato. Allora, no, devo dire che il ritornello mi ha preso. Il ritornello è molto bello. Il ritornello è carino. Io ho detto anche un po', mi sembra un po' diverso da quello che c'è in giro adesso. Ho usato il termine in realtà fuori tempo massimo, nel senso, come dire, sembra un ritornello di una canzone 20 anni fa, anche volendo. Però mi dicevi tu che invece stanno tornando un po' questo. Corretti in generale nei ritornelli stanno tornando. Stanno tornando un po' questo stile, va bene. Spiegamela proprio, perché io sono rimasto a O, tutti e due, senza l'ascensore, noi vogliamo soli O, quindi sono rimasto lì con questo senza l'ascensore. Ma cos'hai davanti, il testo? Il testo, sì, mi sono andato a cercare il testo. Ma dove l'hai preso? Mi sono andato a cercare su Google, sull'internet. Guarda, se volete lo do anche. Su internet. Guarda, se volete, è qua il testo, cosa vuoi. Comunque, no, perché dovremmo ascoltare 13 Pietro e Irbis con questa canzone? Allora, questa canzone secondo me è carina, ascoltare questa canzone nel particolare perché motivo banale ma legittimo è carina, è orecchiabile, il ritornello ti rimane in testa, parla di una cosa, comunque è esplicito il significato della canzone, serve amore, non c'è nient'altro da spiegare. Ah, non c'è da leggere, non è che... No, no, no. Sai che poi arrivano quelli della mia età che dicono, no, ma perché in realtà no, quello serve amore in realtà è la droga, capito? Sono i drogati, sono tutti sti ragazzi che non hanno niente, non c'hanno i valori, sono drogati, capito? No, questa volta no, anzi, c'è un riferimento alla droga, perché anche io ho il testo qua davanti, aspetta che se no là mi complico perché non ci vedo. Ok. A un certo punto dice, vorrei sentirti ma non siamo allineati, tutte queste canne, mi è venuto il DDA, non so cosa sia il DDA, parentesi, sarà una... Non dire cosa che non sai cosa sono, va bene, scusate, in piazza stavamo tutti... Non so perché, capito? Quindi cita le canne... Disturbo da... No, DDA è il disturbo da deficit d'attenzione, è la DHD tradotta in italiano. Ah, ok. Ok, ok. Vabbè, comunque cita le canne ma in senso negativo, le fumate, poi non sono stato bene. Pure salutista quindi, ragazzo mio. Vedi? Va bene. No, no, sì, si sofferma su valori effimeri che ti fanno stare male, che cerchi di inseguire perché ti riempiano le giornate, mentre invece basterebbe solo avere un po' più di amore. Amore, quindi servirebbe solo quello, lui dice, no? Esatto. Ok, dobbiamo ascoltarcelo 13 Pietro? Secondo me 13 Pietro è valido come artista, molto valido. Vabbè, ormai, cioè prima di questa canzone qua era un po' scomparso, cioè non lo sentivo da un po'. Però mi ricordo che aveva fatto la sua entrata nella scena con delle canzoni che erano molto carine. Ha fatto anche un featuring con gli psicologi. Ah, ok. Per non averla di DDA per quello. Vestiti d'odio si chiama. Ah, ok. No, era diventata famosa. Sì, era famosissima, non l'ascoltavo altro io, non l'ascoltavo altro. Era diventata molto famosa. Va bene, si tratta di voi. Secondo me, secondo me poi è bello. Poi è bello vedere lui, sapere che il padre Gianni Morano, cioè non lo so, a vedere anche magari in futuro cosa diventerà. È una bella storia. Sì, sì, sì. È un caso che non parla di droghe, prostituzione, armi e così? No, è il bello di Tredici Pietro è che non parla tanto di quelle cose lì. Parla più di bromance, cioè di fratellanza. Bromance? Sì, sì. Vuoi dire fratellanza? Eh, ma è più, fa capire di più come lo dice, capito, di cosa parla lui. No, 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 sì, sì, parla più di fratellanza, di legame. Che per quanto, fratellanza si diceva brotherhood, non si diceva brotherhood una volta? Ma anche bromance, bromance è più deep, è più radicato, capito? È proprio la fratellanza ma dentro proprio, cioè che la senti viscerale sotto la pelle. Posso dire che se Tredici Pietro cantasse tipo di canne, di vita da strada, non sarebbe tanto realistico, cioè fine di Gianni Morandi. Infatti può cantare di maratone, sembra di andare a correre col papà. Dai, cioè sei limitato anche nei contenuti che puoi fare con un padre del genere, secondo me, non è realistico. Però è interessante che insomma lui appunto non l'ha, beh insomma ricordiamo che come si chiamavano quelli lì, la Dark Polo Gang, non è che fossero gente di strada, cioè hanno tutti della Roma bene, cioè. Ha ragione, però. Insomma, ci siamo fatti fregare bene, come dire, anche da quelli lì, cioè ci credevamo alle cose che ci raccontavano, no? Sì, è vero. 777, quella roba lì, no? Eh, ma loro però sono, loro sono dei personaggi… Sì, abbastanza discutibili, mi vorrei dire, no? Io li ascolto, eh, ascoltateli, spacca. Ah, perché ci sono ancora? Esistono ancora Dark Polo Gang? Uniti, no, però hanno firmato con l'etichetta per fare un altro album insieme, quindi sono costretti, mi sembra. Ah, ma è Union, cioè, sarà la Reunion, quindi. Io non vedo l'ora di quel momento. Eh, stavo dicendo anche io, ci mancava… Sono emozionata. Emozionata. Ah, ok, va bene. Mamma mia, i brividi ragazzi. Era bella la canzone quella che parlava delle scappe da ginnastica, insomma, c'era una canzone che parlava delle scappe da ginnastica. Ah, Air Force. Si può essere, quella lì, quella lì, quella lì, quella lì, quella lì, quella è la foto, è divertente. Sportswear, sì. Sportswear, ecco lì, era divertente. Bello, 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 bello. Va bene, quindi un 777 a tutti, va bene, state bene. Non ho la minima idea di cosa abbia appena detto in diretta radiofonica. Berzi, grazie. 13 Pietro, ce lo segniamo allora, ma non ce lo mettiamo nelle playlist da ascoltare allora. Sì, sì, sì. Perché questo qui mi hai convinto questa volta. Davvero? Con 13 Pietro mi hai convinto, sì. Davvero? Sì, 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 mi hai convinto. Non ho idea che faccia abbia, non mi interessa neanche, ma voglio andarmelo ad ascoltare. No, lo faccio simpa. E' pure un simpa. Un simpa. Benissimo, dai. Allora, Berzi, grazie. Andiamo avanti con la musica e poi torniamo qui, sempre in diretta, a Crystal Radio. Good morning, Milano!